Ebbene ragazzi, qui è il mio canale, siamo qua ragazzi in post partita, Pescara Perugia 0-2, incredibile, incredibile ma vero, vi faccio un saluto, un saluto fiero qui ormai, siamo in un posto veramente bellissimo, nebbia, foschia, incredibile, e niente, 0-2 ragazzi, ci sta, ripeto, Pescara ha giocato bene il primo tempo, veramente, il paletto ci sta tutto, tutto. Però alla fine sai, chi fa gol ha sempre ragione, purtroppo è andata male, purtroppo il Pescara ha difficoltà incredibili, ma quello è evidente che la squadra deve fare un miracolo per andare in zona playoff, ecco, io me lo auguro, veramente un botto, e niente, adesso sono qua, sta tornando, 14 km di camminata, E niente, molto bella giornata, diciamo, comunque, molto tranquillo, traffico 0, mi raccomando qui, traffico 0, e niente, peccato per la sconfitta. Ma io non sono come Foggiani che chiedono insultare, anzi, io so accettare la sconfitta, ragazzi, il Pescara ha perso meritatamente alla fine, perché se il secondo tempo non me lo giochi, è giusto che lo perdi. Ehm, zingaro o meno, abbiamo perso, ragazzi, abbiamo perso, e vabbè, adesso colpo Sinone, sarà una partita difficile, e io spero che facciamo una grande partita, vada come vada, e che vinca il migliore, punto, senza offerta, ragazzi. Non come il Foggia, come i Baresi, i Baresi Foggiani, voi siete proprio i tifosi che avete proprio insultato con stesse parole, zingaro, 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 tutto il tempo, e, cioè, non lo so, non so che sportività è questa, ragazzi, ma, boh, io veramente non ho idea, va, perché accettare sconfitta, accettare tutto, ma, boh, vabbè, ognuno ha le sue, ragazzi. Ehm, niente, facciamo ancora un po' di ripresa, ecco, per dire, no, eh, Baresi Foggiani, tifoseria veramente calda, eh, sinceramente non lo so, va, perché, perché, c'è zingaro tutto il tempo, c'è, per l'amore di Dio, ma ci può anche stare, va, cioè, i zingari possono essere molto fieri, molto fieri, va, e, poi, pescarese, 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 vai, e, vabbè, allora, mi piacciono i pesci, ragazzi, cioè, ma per l'amore di Dio, cioè, ci mancherebbe, direbbe Sebastiani, eh, altro niente, siamo qua, ancora una volta, è un posto, veramente, fantastico, niente da aggiungere, eh, Perugia vince, Pescara delude, primo tempo ci stanno i pari, l'ho già detto, ma, così è il calcio, ragazzi, così è il calcio, perché il primo tempo, Pescara giocatamente bene, si meritava, l'uno, uno, uno, si meritava, secondo tempo, eh, ragazzi, Brugman, veramente, voto 5, per il secondo tempo, ha perso tutti i paroni al centro campo, ha anche giocato male, cioè, non era da Brugman, Brugman è un leader della serie B, e, ha giocato male, bene lì, ragazzi, è andato il cartone, eh, mh, per l'amore di Dio, l'anglo libico, gli auguro tutto il bene, Francesco Zampano è andato all'Udinese, da Massimo Ordo, eh, per l'amore di Dio, arriverà a Fiamozzi, eh, Falco si è fatto male, arrivato dal Bologna, il prestito con diritto di riscatto, mi sa, a un milione e cinquecento, non c'era, eh, niente, eh, in realtà è questa, eh, la verità fa male, ragazzi, la verità fa male, ma il Pescara è in difficoltà, è in difficoltà, eh, niente, speriamo, speriamo bene, dai, speriamo bene, poi se va male, va male, cioè, non è che io mi metto, eh, a pianicolare, vedi, il Bari ha perso 0,4, con l'Empoli, ma sai che ti dico? a Bentes, che ti viene sul mio canale, vengono, venite qua, a rompere, a rosicare, anti a rosicare, che a rosicare, a vantarvi, Bari per scala 1-0, siamo già in serie, ma adesso, ma dove siete? a dove siete, quinta post, quinta post, eh, così, se, ripeto, quello che manca di rispetto, eh, allora se lo prendo indietro, eh, ma è così, ragazzi, è così, a me il Bari piace un sacco, stanno, ma sempre mi è piaciuta come squadra, purtroppo i tifosi vengono a insultarmi, eh, che possiamo fare? eh, allora, ti sta al quinto posto, così, eh, vabbè, comunque, signori, eh, niente, camminata storica, acqua a 14 km, è una roba, cioè, andata e ritorno, praticamente, partita da un 12 metri, sono, sono quasi le tre, eh, niente, io ho ancora, diciamo, ancora, due chilometri di camminata, eh, quindi incredibile, eh, statevi bene, eh, niente, ci vediamo noi nel prossimo big video, ovviamente questo è un video che non c'è di rendering, non c'è niente, eh, statevi bene, e non ci vediamo al prossimo video, e adesso io penso che posso poi rimanere qua, bella raga!